Lo slettamento a luglio o a settembre della riapertura delle naia di Di Pescara sarebbe una calamità con un ulteriore aggravamento del danno economico e sociale per tutti gli attori territoriali che ruotano attorno al centro natatorio, un tempo fiore all'occhiello degli impianti sportivi abruzzesi. Dopo la riunione dei giorni scorsi tra Regione e Comune con il Governatore Marsilio, che si è riservato ogni decisione dopo l'analisi della fattibilità del Project Financing, e il Comune di Pescara, interessato a rilevare la gestione dell'impianto, purché la Regione garantisca economicamente in caso di perdite, a tornare sull'argomento e guido cupido della SLC-CGL per Abruzzo e Molise, preoccupato anche per i lavoratori ormai al palo da mesi. Noi a distanza di due anni dal bando che era stato pubblicato per la gestione temporanea di quell'impianto, in attesa che venisse definito un progetto più strutturale di prospettiva, siamo ancora all'anno zero. Un danno economico perché ogni giorno che quell'impianto è chiuso, chiaramente determina una ricaduta da un punto di vista economico. Non dimentichiamo che dentro quella struttura, prima che chiudesse, c'erano iscritti dai 3 ai 4 mila utenti, e quindi fra atleti e società sportive e chiaramente anche cittadini che andavano e praticavano l'attività sportiva sociale, proprio perché comunque l'attività sportiva è evidentemente a un risvolto anche sociale rispetto alla popolazione che praticava uno sport. In quel centro lavorano circa 40 lavoratori, fra diretti e indiretti, quando parliamo di indiretti per noi sono lavoratori a tutti gli effetti, sono i collaboratori sportivi che sono in attesa di una risposta ormai da troppi mesi. Noi avevamo il 15 di maggio come una data utile, fissata dai di PCM nazionali, per il quale si poteva riaprire il centro, almeno per quelle che erano le piscine all'aperto, noi invece ci troviamo ancora una volta davanti a un complesso sportivo di quella portata, di quella rilevanza, con i cancelli chiusi. Lo scorso 14 maggio abbiamo fatto un'assemblea proprio davanti a quei cancelli chiusi, vogliamo incitare le istituzioni a trovare una soluzione e a ridare lavoro, non vogliamo vivere di finanziamenti pubblici, vogliamo tornare a lavorare, quindi vogliamo in qualche modo che le istituzioni prendano una scelta sia temporanea per riapertura immediata dell'impianto e sia poi di prospettiva per dare fiato praticamente non solo ai lavoratori ma a tutta la comunità.